Si è conclusa la prima edizione della Montoro Scap, ad aggiudicarsi il primo trofeo della Valle dell'Irno è stata l'azione cattolica piano, che ha battuto in finale il città di Montoro. Una rete di Gianni Caliano ha piegato la squadra di mister Filippo Giacquinto e grande soddisfazione per il tecnico Federico, che trova due successi su due gare. Nell'altro match, la Nova Spessa ha piegato 1-0 al Montoro, la compagine di mister De Stefano, va a K.O. grazie al gol di Del Pozzo. Nova Spessa che ha chiuso sul podio la Kermess. Per la categoria Under 15, ad aggiudicarsi la Coppa, è stata la formazione montemilettese del Lions-Monts. Milutumo Montemiletto, che ha piegato 5-1 all'Academy di Montella. I giallo-verdi del duo Capone d'Alessandro continuano il loro movimento di crescita con i più piccoli. Al termine delle premiazioni di rito c'è stata una grande festa tra dirigenti e calciatori montoresi. L'intento della Motoros Cup era quello di riassaporare il campo dopo oltre un anno di inattività e di creare un momento di pura socializzazione.